Ben trovati amici dell'espettatore di Cilento Channel, un nuovo appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere. Quest'oggi parliamo di un qualcosa che accompagna spesso le nostre giornate, forse a maggior ragione in questo periodo in cui dobbiamo passare più tempo in casa. Sto parlando delle tisane, un qualcosa che sembra interessi tantissimi italiani, infatti si stima che circa 9,5 milioni di italiani consumino regolarmente le tisane. La tisana è un qualcosa che all'inizio, facendo riferimento anche all'etimologia della greca della parola, faceva riferimento solo a un decotto semplice di orzo, poi nel tempo ha acquisito il significato che conosciamo oggi. Che cos'è una tisana? In effetti è una preparazione acquosa in cui sfruttando l'effetto solvente dell'acqua calda o fredda si estraggono da fonti vegetali dei principi attivi o comunque si ha un effetto terapeutico. Per fare ciò una tisana può essere fatta attraverso tre metodiche principali, parliamo di infusione, decotto e macerazione. Allora, l'infusione si ha quando le parti tenere, quindi le foglie, le bacche, i fiori della pianta o di un'erba o di un insieme, di una combinazione di esse, viene messa in acqua bollente per un determinato periodo di tempo, che possono essere da 5 a 20 minuti a seconda della tisana. Si ha invece poi il decotto quando invece le parti più dure della pianta vengono messe in ebollizione con l'acqua, sempre per un determinato periodo di tempo e successivamente poi filtrate. Infine abbiamo la macerazione in cui le parti della pianta vengono lasciate in un contenitore con dell'acqua per un determinato periodo di tempo, anche qui però più lungo, che può andare anche da alcuni giorni ad alcune settimane. Ovviamente a seconda della pianta, delle erbe o delle combinazioni di esse che utilizziamo abbiamo differenti tisane con differenti effetti. Possono essere effetti depurativi, drenanti, diuretici, detossificanti, dimagranti e ovviamente anche a seconda dell'effetto che abbiamo la possiamo consumare in differenti momenti della giornata, quindi per esempio al mattino quando ci svegliamo, dopo i pasti oppure la sera per esempio prima di andare a dormire. Però una cosa importante è che una tisana è composta sempre da alcuni elementi fondamentali. Quali sono? Abbiamo ovviamente il rimedio base che, come dicevamo prima, è appunto una pianta, un'erba o una combinazione di esse da cui vogliamo estrarre, vogliamo ottenere l'effetto terapeutico. Poi c'è l'adiuvante che invece è comunque una sostanza che può aumentare l'effetto terapeutico, può aumentare l'assorbimento del rimedio base. E poi abbiamo il complemento e il correttore che invece sono qualcosa che servono essenzialmente per migliorare le proprietà organolettiche della tisana. Vediamo ora qualche consiglio generale su quando andiamo a preparare la tisana, su come prepararla. Sicuramente dobbiamo utilizzare un'acqua oligominerale. Non aggiungiamo zucchero nella preparazione della tisana, ma se il gusto è troppo forte oppure ha un gusto particolarmente amaro, possiamo magari utilizzare un cucchiaino di miele oppure un po' di liquirizia. È preferibile consumarle calde oppure a temperatura ambiente, non fredda. Ed evitiamo anche di riscaldarla più volte, quindi se la dobbiamo consumare durante la giornata in più occasioni evitiamo di andare a riscaldarla. E poi un'ottima cosa sarebbe anche di utilizzare un coperchio da mettere sulla tazza mentre beviamo la tisana in modo da evitare di far evaporare le proprietà della tisana stessa. Ovviamente oggi giorno ne troviamo in commercio di tantissimi tipi e in tantissimi negozi diversi, sia al supermercato ma ovviamente anche in erboristeria o in parafarmacia. Il mio consiglio ovviamente è quello di acquistare delle tisane soprattutto in erboristeria e in parafarmacia innanzitutto perché avremo un prodotto qualitativamente migliore, ma anche perché le tisane, per quanto nella grande maggioranza dei casi non diano problemi, derivanti da fonti vegetali possono avere comunque anche delle controindicazioni o delle interazioni con dei farmaci. Quindi è bene rivolgerci all'operatore che una volta che gli abbiamo spiegato quali sono le nostre patologie, che farmaci prendiamo, ci potrà consigliare nel migliore dei modi che tisane a prendere, con che anche dosaggio. Questo è importante perché ovviamente le tisane, come diciamo prima, non danno nella grande maggioranza dei casi problemi, ma non vanno neanche mai intesi come dei sostituti dei farmaci oppure come delle pozioni miracolose. Sono invece comunque un qualcosa che ci possono aiutare a risolvere o comunque ad alleviare dei piccoli disturbi e in ogni caso ci aiutano anche a bere, ad introdurre più liquidi, quindi a migliorare anche il nostro grado di idratazione. Volendo fare degli esempi di tisane abbiamo appunto quella al finocchietto, magari che ci aiuta nella digestione e nel contrastare il meteorismo, nella betulla che ha un ottimo effetto drenante, il tarassaco che ci aiuta ad avere un effetto detossificante, soprattutto a livello epatico, la melissa che contrasta lo stress, l'insonnia e il mal di testa, la camomilla che ha un effetto appunto rilassante e lenitiva, ma ce ne sono insomma tantissime e varie combinazioni di queste tisane, quindi ad ognuno insomma può scegliere quella a seconda delle proprie necessità. Infine volevo chiudere dicendo che proprio in questo periodo di coronavirus molto spesso leggiamo varie cose o ci arrivano sui telefonini vari messaggi, tra cui appunto quello di consumare delle bevande calde, delle tisane calde per contrastare il coronavirus. Questa è una cosa che possiamo catalogare nelle fake news e quindi vi invito sempre a confermare le fonti da cui apprendete queste notizie, quindi devono essere sempre dei siti istituzionali oppure dei professionisti, degli esperti del settore. Per concludere, anche se il periodo ovviamente che stiamo vivendo è molto particolare, volevo comunque rivolgervi a tutti voi i miei personali sinceri auguri di buona Pasqua a tutti i telespettatori di Cilento Channel. Arrivederci al prossimo appuntamento.